Girava con un coltello nascosto nel portoggetti del suo ciclomotore, un particolare costato la denuncia a piede libero a un nisseno per porto abusivo di coltello. L'uomo, che alcuni precedenti alle spalle ed è attualmente sottoposto all'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria, è stato fermato dai poliziotti delle volanti mentre girava per il centro storico a bordo di un ciclomotore e si è mostrato insofferente al controllo degli agenti. I poliziotti hanno deciso di procedere alla perquisizione trovando il coltello nel vano portoggetti del mezzo a due ruote. Ma i guai non sono finiti qui per l'indagato, che è stato pure sanzionato per diverse violazioni del codice della strada a partire dalla guida senza patente e inoltre il mezzo è risultato privo di targa, non assicurato e sprovvisto di carta di circolazione.